È sempre dura, non c'è nessuna partita che magari è un po' facile, soprattutto a questo momento. Non dico il momento perché Crotone è al Vettici e qualsiasi squadra che viene a incontrare e adesso metti bene i piedi per terra. Noi rispettiamo tutte le squadre ma a noi è importante i tre punti che dobbiamo guadagnare in campo. A casa nostra noi dobbiamo farci rispettare di più perché anche se loro vengono con la voglia che magari fuori casa riescono a vincere ma noi a casa nostra dobbiamo farci rispettare in qualsiasi modo perché a noi è importante i tre punti e non guardiamo in faccia chi viene. È importante per me anche se gioco o non gioco è importante che mi alleno al 100% e essere pronto quando sarò chiamato per dare la squadra. È importante, è molto molto importante per qualsiasi giocatore. Tutti vogliono vincere qualcosa ma noi secondo me abbiamo già vinto perché il nostro oggettivo abbiamo già ottenuto ma per essere più importante qualcosa che viene di più è quello che ti fa essere più contento perché quando tu vinci qualcosa che non aspettavi a quel punto qualcosa ti scatta e sei più allegro. Siamo molto tranquilli, è un periodo buono, è un periodo importante soprattutto per i nostri tifosi e anche per noi. Viviamo e cerchiamo di ottenere i risultati passo dopo passo.